Partito? Ecco Duccio in pesca, col suo primo pesce. Vai gira il mulinello. Guarda qua Niccio. Ora lasciare, bella. Vai che ti aiuto io, vai. Ma da questa parte tu sfidi la manovella, vai. Ma andati qua. Così. Bravo. Vai gira. No la, un giù. Guarda. Guarda. Guarda, è grosso. Com'è? No. È grosso? Gira. Chi c'è? C'è Nicco che ci riprende? Mi sta smontando il mulinello. Gira la manovella al contrario. Quanti anni hai Duccio? Quanti. Tanti? Due. Due. Bravo. Vediamo un po'. Una carpa. Una carpa per Duccio. Sì, ma non inquadrare il mondo Niccolò. Si sta inquadrando veramente... Neanche Jonathan Paulicchi fa un filmato così. Vai. Dai che sta arrivando. Com'è quasi? Com'è quasi? Vi va! Viva, viva! Eccola, viva! Eccola. Gira, gira, gira che ci siamo quasi, non ce la fai più? No, siamo stanchi morti, gira, ma gira, mi aiuti, bravo, 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 dai grande Lucio, noi siamo senza retino, siamo senza patino, eccola, dove sei Nicco? E' qua. Vieni qua, dai che si rimanda in acqua, dagli un bacino, buttagli un bacio, bravo, via in acqua.